Radio Radicale, siamo con l'On. Vanda Ferro di Fratelli d'Italia per parlare con lei del nuovo governo. Allora, le volevo chiedere, immagino che lei sia soddisfatta di come è avvenuto il passaggio delle consegne. Oggi avrete una capigruppo, penso, per i tempi relativi al dibattito sulla fiducia, però non avete capigruppo, sono andati via tutti e due. Beh, intanto devo dire sì, un passaggio di consegne, il passaggio della campanella, che è stato all'insegno di una grande emozione, un'emozione ovviamente nel vedere la prima donna governare il nostro paese e soprattutto una donna insomma che viene da una militanza politica importante con ovviamente capacità, capabilità e grande passione. In questo anche un passaggio di consegne molto, devo dire, anche bello nella forma tra il Premier Draghi e la nuova incaricata Giorgia Meloni. Anche insomma simbolicamente nell'aspettare sui gradini della scalinata e soprattutto con quel benvenuto che lascia intravedere una stima reciproca e nello stesso tempo anche la stima di chi ha fatto un'opposizione senza se e senza ma e che probabilmente Draghi ha compreso essere insomma una persona leale dalla sua parte politica ma nel dare dei contributi. A questo si aggiunge che oggi alle due ci sarà questa capigruppo per determinare se manterremo quel, devo dire, calendario di domani alla Camera e dopo domani al Senato se anticiperanno i lavori del Senato anche a domani. Non abbiamo dei capigruppo ma abbiamo un vicario come Tommaso Foti che per esperienze e numero di legislature saprà condurre sicuramente anche alla capogruppo quello che oggi rappresenta il numero più folto e numeroso qui in Parlamento, quello di Fratelli Italia. C'è qualcosa che non le è piaciuto di quello che è stato detto sul nuovo governo in questi due o tre giorni. Allora mi sembra di vedere che il clima sia più che buono nonostante insomma ci fosse qualcuno che non aveva ovviamente gradito nelle opposizioni questa vittoria del centro-destra. Allora come ha trovato le reazioni e soprattutto mi è sembrato di vedere un certo incoraggiamento nei confronti della Meloni che ieri ha fatto questo incontro con Macron. Devo dire intanto l'idea che l'incontro con Macron rappresenti quella capacità di diventare istituzione soprattutto nel Paese Italia che dovrà confrontarsi e questo ovviamente è un fatto reciproco quindi anche da parte della Francia nei confronti del nostro Paese in quello che diventa uno scacchiere fondamentale dei Paesi che partecipano all'Unione Europea sui temi in comune, sui grandi temi come l'energia, il carogas, il tetto al prezzo e tutto quello che ovviamente riguarda anche il conflitto con l'Ucraina che significa anche il tema per esempio a seguire dell'immigrazione e quindi anche una forma di incoraggiamento ma credo una forma di rispetto reciproco pur di provenienze culturali e politiche differenti, di gruppi parlamentari europei differenti ma anche nell'aprire un dialogo che credo diventi importante anche a seguito credo di quella piccolissima frattura tra Germania e Francia sullo stanziamento dei famosi 200 miliardi e quindi quella corsa in avanti voglio ricordare che Giorgia Meloni certamente saprà mantenere quelli che sono dei rapporti importanti a livello europeo, lo farà ovviamente con la consapevolezza di rappresentare un grande Paese un Paese che non dovrà mai arrivare col cappello in mano e che dovrà essere in qualche modo parte attiva di quello che oggi diventa la solidarietà e che è stata sempre richiesta tra i Paesi in alcuni momenti e su alcuni temi a questo ovviamente si aggiunge anche quella capacità di saper fronteggiare i temi rispetto a quelle visioni anche differenti che si possono avere con altri Paesi come la Francia ma di trovare magari dei percorsi comuni su alcuni temi Voi non avete fatto nessun tipo di sconto a Draghi eppure il rapporto tra la Meloni e Draghi è risultato un bel rapporto forse più bello di quello che la Meloni oggi potrebbe avere con alcuni suoi alleati allora lei ha cambiato qualche sua valutazione su questo e l'ha fatta riflettere che forse magari tra alleati c'è meno sincerità e meno lealtà di quanto ci può essere tra due ex avversari che si guardano con rispetto Ma ex avversari che si guardano con rispetto e credo che la Meloni quando andò la prima volta a conferire con Draghi quando Draghi divenne insomma il capo del governo fu molto chiave su una visione della politica che insomma sono cicli e ricicli nella storia insomma nel dire che spesso gli avversari sono interni nel nostro caso c'è un confronto molto aperto c'è un confronto dove ovviamente ognuno vuol far valare le proprie ragioni ma dove c'è una Premier che è stata scelta dal popolo sovrano in termini numerici ma che credo abbia dimostrato anche quella capacità di mediazione e soprattutto la volontà di lavorare per questo Paese infatti richiama alla lealtà i ministri richiama alla lealtà e alla responsabilità e alla sobrietà gli esponenti politici e credo che questo dovrà essere insomma il cammino da perseguire poi rispetto alla domanda che avevo saltato precedentemente su attacchi che magari sono stati poco graditi beh l'attacco di Giorgia Meloni in quanto donna a capo solo di una squadra di uomini noi non guardiamo se un uomo, spesso la sinistra definisce le donne come la minestra il sale o l'olio, la donna è la minestra e quindi deve avere tutti quei componenti che in qualche modo Giorgia Meloni ha riconosciuto a tante donne come me in tante postazioni, alla guida anche dei partiti a livello locale, regionale, nazionale, negli esecutivi io credo che insomma questo non si possa imputare a Giorgia che è rappresentato invece di sfondare quel tetto di cristallo e che sarebbe bello vedere se è un momento dove le cosiddette femministe possano applaudire un risultato che ha cambiato la storia e che darà possibilità in futuro alle tante donne che vorranno perseguire obiettivi obiettivi nati dal basso con una militanza e questo io credo con una gavetta importante che hanno dimostrato che alla fine la meritocrazia preme anche in politica e soprattutto Vuole dire qualcosa sul cingolanni consulente del ministro? Allora era necessario avere una fase di continuità rispetto all'emergenza che stiamo vivendo? È quello che abbiamo sempre un po' detto anche rispetto a Draghi al quale abbiamo sempre riconosciuto anche negli anni dell'opposizione che sono persone di grande prestigio, di grande qualità, di grande professionalità rispetto ad un governo che invece secondo noi non aveva motivo di esistere perché erano contrapposti sulle visioni importanti e grandi temi infatti ricordiamo che non è stato Fratelli d'Italia a far credere il governo Draghi ma i 5 Stelle e altri nostri alleati che hanno scelto di perseguire una strada differente su cingolanni io credo che sia una scelta giusta, ponderata rispetto a quella transizione ordinata ma soprattutto con la competenza che cingolanni ha dimostrato nel corso del tempo che sarà sicuramente di supporto ma quel 3 di un anno tra quello che sarà la continuità nelle cose buone del governo Draghi e la discontinuità con quel programma di centrodestra per il quale siamo stati votati noi siamo stati votati per rappresentare la politica non un governo tecnico ovviamente in questo caso serve un tecnico che è stato ministro anche in quel percorso che deve in qualche modo dire cosa si è fatto fino ad oggi, cosa si trova e cosa insieme si potrebbe fare se le coincideranno ovviamente le visioni anche sul tema dell'ambiente e della transizione ecologica. Sulla legge di bilancio quando pensa che verrà messa nero su bianco? Lei non è nel governo quindi non lo può sapere però ragionevolmente i tempi... I tempi sono molto ristretti in un mese insomma bisognerà arrivare con una legge di bilancio che dovrà avere le priorità in testa rispetto ovviamente alle risorse che si possono mettere in campo ma quelle priorità che devono guardare le fasce deboli, le famiglie, le piccole e medie imprese rispetto anche a quello che dicevamo al caro gas, al caro bollette, al costo delle materie prime e quindi devo dire al tetto anche al discorso che riguarda le pensioni io credo che ci sarà tanto da fare e adesso dobbiamo lavorare in modo sinergico rispetto alle risorse trovate e quelle da mettere in campo non sulla base di marchette, mi perdoni un termine forse un po' troppo eccessivo ma su quelle che sono le priorità degli italiani noi a loro dobbiamo rispondere, questo l'abbiamo fatto anche, devo dire, con delle scelte delle figure identitarie senza nasconderci cosa siamo, da dove veniamo, ma da dove veniamo in termini di idee, di proposte e di obiettivi non di altro. Resta in Parlamento o va nel Governo? Non lo so, lei vorrebbe restare qui? Guardi, la mia è una lunghissima militanza destra, è una lunga militanza in Fratelli d'Italia ho sempre riconosciuto a Giorgia Miloni di vedere oltre l'orizzonte lasciamo a lei le scelte, qualunque scelta sarà e da qualunque postazione Vandaferro si troverà lavorerà ovviamente per questa nazione, per gli italiani, per quello in cui ha creduto per quello in cui crede e perché no, anche per quel sud dal quale io provengo che ha bisogno di grande attenzione. Ringrazio, grazie a Vandaferro di Fratelli d'Italia.